Cari amici telespettatori, sono qui per fare questo video per dire a tutti coloro che fanno video come me e che sono nella mia stessa condizione che bisogna assolutamente fare una tv per ragazzi disabili, dei programmi adatti a tutti coloro che hanno delle abilità differenti e quindi secondo me la Rai dovrebbe fare questo perché anche noi siamo persone e anche noi abbiamo delle idee ottime per una buona televisione e spero che tutto questo in futuro venga fatto. Detto questo vi do appuntamento assolutissimamente ai miei prossimi video e vi raccomando continuate a seguirmi perché vi ricordo che comunque essere disabili non è un limite, anzi dobbiamo lottare per quello che vogliamo. Ciao a tutti e al prossimo video.